Buongiorno e buon sabato a tutti, vigilia di Milan Napoli, facciamo questo video prima della conferenza stampa di mister Stefano Pioli che si terrà alle 14.15 nel centro sportivo di Milanello, quindi nel pomeriggio ovviamente faremo un approfondimento sulle sue parole, sulle dichiarazioni, sui temi principali e ovviamente sulla probabile formazione che scenderà in campo contro il Napoli domani sera. L'Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana, quindi è a più 4 in classifica rispetto ai rossoneri, questo mette il Milan nelle condizioni di dover per forza vincere contro il Napoli per non perdere ulteriore terreno in classifica in Serie A. e quindi la partita sarà davvero molto molto importante, decisiva contro gli uomini di Spalletti. È un tema che tratteremo meglio in maniera più approfondita nel pomeriggio, questa mattina invece vogliamo parlare ancora di calciomercato perché nelle scorse ore in sede a Casa Milan c'è stato un incontro di mercato tra Paolo Maldini e alcuni rappresentanti di una importante comunque agenzia francese dove sono stati proposti diversi giocatori. In particolar modo è stato proposto Colomoni del Nantes, giocatore di 23 anni, attaccante in scadenza nel 2022, quindi fra sei mesi, giocatore che era già stato seguito dal Milan per l'attacco. I rossoneri si erano interessati a questo ragazzo che ha segnato sei gol e fatto due assist in questa Ligan, quindi comunque segna con abbastanza frequenza, un giovane molto interessante, forte fisicamente ed è francese, quindi il Milan lo stava seguendo già nei mesi scorsi. È stato proposto in questo incontro a Casa Milan e ci sono anche le testimonianze insomma delle foto del procuratore e degli intermediari presenti nella sede del Milan, però i rossoneri al momento hanno sì detto ai procuratori che il ragazzo continua ad interessare ma non vogliono fare un acquisto in attacco in questo momento, vogliono ancora aspettare, temporeggiare perché comunque comprare in attacco vorrebbe dire impegnare comunque una somma importante in una zona in cui il Milan ha bisogno, ma va fatta la scelta giusta, va preso il giocatore giusto, di prospettiva, un giocatore comunque che debba assicurare al Milan tanti gol nei prossimi anni, quindi si vuole ancora aspettare. Il giocatore è stato proposto a Colombo Ani, il Milan ha come dire fatto capire ai procuratori che c'è un gradimento ma non si è andato oltre, non si è andato oltre. Infatti anche i procuratori hanno scritto visita di cortesia sotto magari sotto alla foto che hanno postato sui loro social di riferimento perché comunque è stata una chiacchierata. In questa chiacchierata è stato proposto anche un altro difensore, si tratta di So, difensore 19enne del Saint Etienne, guineano, è un giocatore che comunque ha dei margini di crescita, dei margini di miglioramento, ma tutto sommato crediamo che non possa essere lui il rinforzo importante in difesa del Milan, anche se bisogna registrare, come vi dicevo nei video precedenti, che c'è un continuo traffico a casa mia di procuratori, di intermediari che giustamente vogliono proporre i loro giocatori, i loro assistiti e il loro lavoro. Quindi si va a casa mia, si prende appuntamento con Maldini e Massara, si sale al quarto piano dove è il centro neuralgico delle decisioni che vengono prese in sede tra Maldini e Massara, lo stesso Ivan Gazzidis e lì si parla, si discute, si chiacchiera in questo momento su tanti giocatori, ma arriverà il momento in cui ci saranno anche le scelte, scelte importanti, scelte pesanti e noi crediamo che il nome di Sven Botman del Lille sia ancora in cima alla lista, nonostante costi tanto, nonostante il Lille chieda 30 milioni di euro, quindi è un prezzo comunque importante, ma Botman rappresenta un po' quello che è la filosofia di Elliot, cioè quella di prendere un giocatore bravo, forte, di prospettiva, ma bisogna prenderlo al modo giusto, cioè non magari investendo subito tutti e 30 milioni, ma magari chiedendo a Lille una formula particolare, potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni, oppure addirittura anche il prestito oneroso con diritto di riscatto semplice, puro, come è stato fatto per diversi giocatori, lo stesso Messias, Messias è stato preso così, prestito oneroso di 2 milioni e mezzo, con diritto di riscatto a 5 e mezzo, se Messias dimostrerà in questi mesi di essere da Milan, verrà riscattato a giugno dal Crotone, altrimenti tornerà al Crotone. Stessa cosa a Pellegri, identica formula, mi viene in mente anche Meite e Tomori nell'anno passato, quindi sono formule che il Milan sta cercando di utilizzare con sempre più frequenza durante il calciomercato. Bisogna capire se il Lille accetta, perché comunque il Lille se già vende i conè alla Fiorentina in cassa a quei 15-20 milioni, evidentemente non ha bisogno impellente di vendere un altro pilastro della squadra, perché comunque il Lille non può smantellare un'intera rosa nel mercato di gennaio. Il Milan però ci prova, perché ha dei buoni rapporti con la squadra francese, perché da lì ha già pescato Meignan e Leao, perché ci sono comunque degli ottimi rapporti tra i due club. Vedremo, vedremo perché, ripeto, la scelta del difensore sarà molto importante. Dipende anche dal rinnovo di Romagnoli, perché se Romagnoli rinnova è ovvio che il Milan si ritrova un altro giocatore, un altro difensore centrale in rosa e quindi potrebbe fare un tipo di investimento diverso. Se Romagnoli non rinnova è lì l'investimento deve essere importante, deve essere di grandissimo livello. Il Milan quindi è concentrato naturalmente sul campo, perché c'è questa partita contro il Napoli alle porte, dopo ci sarà quella con l'Empoli, però come dimostrano le foto, come dimostrano le foto che vi abbiamo mostrato, c'è anche un grande lavoro in questo momento sul calciomercato, perché la squadra ha bisogno di rinforzarsi, soprattutto nel ruolo di difensore centrale, senza trascurare delle opportunità in altre zone del campo, perché riteniamo che il Milan debba comunque pensare anche al centrocampo, vista la Coppa d'Africa e la partenza di Ben Asser e che sì per un mese, magari anche meno di un mese, però dipende dall'andamento delle loro nazionali e per l'altro ruolo è quello dell'attacco, dove il Milan ha bisogno di rinforzarsi. Ecco perché è stato anche proposto col Moani del Nant in quel ruolo lì. Vedremo gli sviluppi sul calciomercato, vi terremo sempre aggiornati, tutto quello che sappiamo insomma verrà comunicato sui video che quotidianamente faccio sul mio canale, quindi poi man mano che entriamo più nel vivo nel mese di gennaio ci saranno sempre più aggiornamenti, anche qualcosa di più concreto perché ovviamente il Milan deve concretizzare, deve chiudere un colpo in difesa per sostituire di Simon Kier.